Il tema del tacquino politico della campagna di oggi è impernata in una discussione a margine di una conferenza stampa su una denuncia da parte dell'onorevole Enzo Rivellini, europarlamentare del PDL, per la facoltà di medicina dell'Università Federico II di Napoli. Ma chiediamo direttamente a lui di che cosa si tratta. Io credo che ci sia una cappa di censura sui media napoletane. La cappa di censura che non c'era neanche quando governava Bassolino. Le notizie, anche se di peso, anche se sconvedienti, molto spesso non vanno sui giornali. Non vorrei che anche questa denuncia possa essere in qualche modo pubblicizzata da uno straniero, fra virgolette, come Gian Antonio Stella e sconosciuta ai media locale. Ma ritorniamo in argomento. Ho scritto al Presidente Caldoro, al Subcommissario alla Sanità Morlacco, alla Corte dei Conti, al Professor Persico, chiedendo delucidazioni sulle mali lingue che in questi giorni sospettano che ci sia un enorme caso di parentopoli alla Federico II. Alla Federico II c'è la concreta possibilità che si chiuda l'ospedale perché mancano infermieri. Eppure sono stati rinnovati 114 specialisti ambulatoriali, nominati in epoca di vacche grasse, non di vacche magre come oggi, che hanno un cognome particolare. Nell'elenco dei 114 che ho allegato alla stampa non c'è neanche un gennare esposito figlio di NN. Tutti i cognomi conosciuti, basta leggerli per vedere che sono presenti probabilmente parenti, amici, figli di primari, di baroni della medicina della nostra Regione. Per carità è legittima la loro assunzione temporanea come specialisti ambulatoriali, ma le mali lingue sospettano che la loro chiamata sia stata fatta non seguendo proprio le regole al 100%, ma siano stati scelti dalla Federico II. Scelti come? È vero che partecipano ad un elenco e ad una graduatoria della Sumai e che il Sumai naturalmente deve scorrere la graduatoria. Il primo, il secondo e il terzo sono circa 4.000 i medici. Ma è anche vero che se la Federico II chiede specificamente un medico che abbia fatto una serie di pubblicazioni particolari, che abbia un master particolare, che abbia più o meno delle caratteristiche particolari, beh si bypassa questa graduatoria e viene poi assunto proprio quel tipo di medico. Per carità tutto regolare, ma le maldicenze come al solito sospettano che ci sia un caso enorme di parentevole. Senta onorevole, per non restare nel vago, lei ci può accennare a qualche cognome eccellente? Ma certo, c'è un persico, c'è un persico direttore generale e un persico specialista ambulatoriale. Ce ne sono anche altri. Basta prendere l'elenco dei primari e dei professori universitari e si vedrà che dei 114 nomi sono tutti 114 nomi, per meglio dire, cognomi conosciuti. È il nome che cambia, ma il cognome è conosciuto. Comunque gira nell'orbita del management della facoltà. Certo, certo. E io mi chiedo, ma il professor Persico, che è collega di questi professori universitari, che è stato votato da questi professori universitari, perché è diventato più volte preside della facoltà, non ha un conflitto di interesse, non ha un attimo di difficoltà a tagliare proprio i parenti, i figli dei suoi colleghi? Sono certo che... Sono nomine fatte direttamente o attraverso un bando pubblico? No, c'è un elenco della Sumai. Si chiede per esigenze straordinarie, ma abbiamo visto che al Policlinico non sono esigenze straordinarie, ma è abitudine, perché ormai sono anni che questi 114... La straordinarietà, come spesso accade, è diventata ordinarietà. Ordinarietà. E si chiede, per casi specifici e particolari e straordinari, un medico. Se io accanto alla richiesta di questo medico lo richiedo alto 1,90 m, 45 di piede e con altre caratteristiche specifiche, la Sumai non rispetta la graduatoria, ma dà proprio quel tipo specifico di medico richiesto. Quindi, in maniera legittima, si può bypassare questo elenco. Allora io adesso chiedo al professor Persico, che conosco come persona integra e di grande spessore, uno dei chirurghi più importanti a livello internazionale. Chiedo all'amico Caldoro, che è una persona limpida e l'onestà di Caldoro è fuori discussione, di smentire, di smentire le mali lingue e Persico si dimettesse ad Oras. Persico non ha certo bisogno di fare il direttore generale, è una persona così autorevole che può anche non fare il direttore generale. Ma diamo finalmente aria nuova all'interno del Policlinico Federico II, diamo finalmente un forte segnale affinché ci sia un rinnovamento all'interno delle strutture manageriali dell'Università. Le faccio una domanda che forse esolo anche un po' dal tema della conferenza San Battista mattina. Si sta parlando da tempo che ci dovrebbe essere un rimpasto in giunta dall'entrata di una donna. Ecco io evito di fare una domanda diretta di un suo congiunto, ma in buona sostanza lei pensa che questo temporeggiare da parte di Caldoro sia un po', come si dice in questi termini, sfilacciando un po' i rapporti anche all'interno del PDL e del centrodestra complessivamente? Ma io adesso questa dietrologia politica non la capisco. Io credo che Caldoro abbia una sentenza da applicare di mettere all'interno della giunta regionale non una, ma più donne, credo quattro donne. Non vorrei che qualcuno richiedesse un commissario ad acta che invece in sostituzione di Caldoro poi nominasse un assessore e quindi invito Caldoro non a fare un rimpasto, ma a rispettare la legge e quindi a fare una, due, anche tre donne, perché mi pare che la sentenza prevede fino a quattro donne, per poter essere rispettoso nei confronti della legge italiana. Su questo tema si è sentito, lei è un autorevole esponente del PDL, si è sentito con Caldoro. Ma sia chiaro questo, Caldoro è un amico personale. Io conosco Stefano da quando entrambi avevamo i calzoncini corti e lo stimo come persona tutta ad un pezzo che probabilmente alcune volte è troppo timido e timido non è un aggettivo dato a caso. Credo che debba avere più forza, lui è governatore, è commissario alla sanità, ha pieni poteri, tutti lo conosciamo come persona onesta, proceda senza arrampicarsi sugli specchi. Ripeto, rispetti la legge, nomini, un, due, tre donne, perché, ripeto, non vorrei che ci possa essere la vergogna di un commissario ad acta che faccia le funzioni del governatore Caldoro.